da questa mattina c'è un modo migliore per farsi capire ma senza annoiare tutti d'accordo tutti d'accordo studiare e imparare beh non fa certo male ma prima di tutto impariamo ad amare tutti d'accordo tutti d'accordo a ci piace perché parla con il cuore ci piace perché è buono come il pane ci piace perché sogna e fa sognare ti ci piace perché è più più che speciale beh insomma potestamente il mondo di fuori non cambia colori facciamoci sotto gli diamo due mani tutti d'accordo tutti d'accordo a questa mattina facciamo sul serio chi vuole sognare lo faccia davvero tutti d'accordo a ci piace perché parla con il cuore ci piace perché è buono come il pane ci piace perché sogna e fa sognare ci piace perché è più più che speciale ma ci piace perché parla con il cuore ci piace perché è buono come il pane ci piace perché sogna e fa sognare questo sì ci piace perché è più più che speciale ma è speciale insomma faccio impossibile e adesso come il cuore ci vuole ma vuoi piantare di mangiare la pizza è tutto il giorno che mangi la pizza adesso facciamo dettato d'accordo? d'accordo ecco svegli ragazzi eh le sette e mezzo ma porca zia 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 ma perché non mi hai svegliato non mi hai svegliato solo le sette e mezzo non lo vedi non mi hai svegliato la labbra zia zia ma ma che... ma che stai facendo? Sto ascoltando la musica, vanno, volevo svegliarti. E invece mi dovevi svegliare tantissimo. Ma sai perché? Perché ieri mi hanno consegnato l'autoradio. Otto memoria, ricerca automatica, classe ad altissima fedeltà. Una roba che la musica si entra dentro la pancia, no? È tutto un fremito, tutto un fremito. E poi sto aspettando il postino. E l'aspetti in vestaglia? E tu che sei in mutande, allora? Senti zia, è tardi, io devo fare ancora la doccia e colazione. Poi devo andare a scuola, vogliamo rientrare? Tesoro, io vorrei con te, ma vedi il problema è che il postino suona così piano che bisogna stare lì ad agguantarlo. Anzi, il postino da noi non suona neanche una volta. È buona questa, dai, su, è buona, dai. Senti zia, adesso non rientriamo. Sì. Perché per me è molto tardi, hai capito? Sì. Prendi la radio, sennò te la fregano. Va bene, va bene, prendo la radio. E poi cos'è oggi? Non ho capito questa eccitazione stamani mattina, non ho capito cos'è. Ma non c'è. Cos'è successo? Cos'è, aspetti delle bollette, aspetti le tasse, cosa c'è? Ma no, non aspetto né bollette né tasse. Sì, sei eccitata, non lo capisco. Ma non è vero, è una tua idea. Salve, buongiorno. Buongiorno. Caldo stamani, eh. Buongiorno. Io, io aspetto una lettera da Orso Bruno. Ah, ti sei scritta al WWF? Ma no, è un ingegnere, bella presenza, buona posizione economica, capelli sale e pepe, occhi color castagna, ha più di 60 anni ma meno di 70. È perfetto, perfetto per me, perfetto. Ma hai già acceso il caminetto? Ma cosa c'è in stamani, l'argento vive addosso, zia. No, ho bisogno di calore. Dove l'hai conosciuto questo sentiamo? Non l'ho conosciuto, lo conoscerò. Per ora gli ho scritto il primo apposta. Il mio soprannome è Scoiattolina bionda. Che ne dici? Dico che è assurdo. Preferivi visone selvaggio, volpe linciata? Dico che è pazzesco l'amore per corrispondenza. Ma come ti viene in mente una cosa del genere, no? Tesoro, l'amore è sempre una pazzia. Per corrispondenza, dal vivo. Ma è più pazzesco vivere senza amore, credimi. A proposito, Elisa, come va? Senti, non cominciamo con questa storia, eh? Che tra venti minuti deve essere a scuola. E ho anche lezioni di canto stamani. Vecchio lo scarpone. Quanto bello. Ma come cresceranno quelle creature? Questa canzone era già vecchia quando io ero giovane. Ah sì? Invece questa è sana musica tradizionale. Secondo te cosa li dovrei far cantare? Insegnagli la banda. Ah, perché quella è nuova, eh? Appunto. E' ora di fare la scuola, no? Io non so il marinero, so il capitano, so il capitano, Non so il capitano. Completamente fuori di testa. Completamente. La banda. Sì. Decoriamoci. Parabailar la banda. Parabailar la banda. Se necessita una bocca di grazia. Una bocca di grazia. Por qui, por qui? E' arriva, e' arriva. E' arriva, e' arriva. Por qui sei, por qui sei, por qui sei. Io non so il marinero. Io non so il marinero. So il capitano, so il capitano, so il capitano, so il capitano. Io non so il capitano, 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 so il capitano Cos'è questo baccano? Stefano che fa lezioni di musica, ce l'avessi avuto io un maestro così? No, è diventato il Tina Turner, ma gli dovrebbe insegnare le 7 note, no? E la durata, le minime, le semi-minime, le crome, no? No, lui usa questi metodi, cosa crede che la vita siano tutti balli, trenini e cotio? Eh? Poi quando capiranno che la vita non è così? Risa, più tardi lo capiscono il migliore. Sì, questo è buono. Io poi vorrei sapere che c'è da essere così euforico. Sfido io con tutte le donne che frequenta. Come? Si sarà innamorato. Buongiorno. Buongiorno. Ma non è che è Giovanna? Come è Giovanna? Eh, sarebbe buono, no? Fanno lo stesso mestiere, si capiscono. Poi lei è una gamba che sa quello che vuole, mica come noi che non ci decidiamo mai. Sì, ma chi? Io non mi decido. Lo sai che? Il papà di Paolino mi ha chiesto di fissare la data delle nozze. Dai! Sì, ma io non lo so. Come non lo sai, Claudia? Non lo sento. Non te la senti, Claudia, via. Non so se è giusto, mi sembra troppo tardi. Non è che come sposina sarò troppo vecchia? Ma che vecchia domani, sarai più vecchia, Claudia. Carpe diem, carpe diem. Sai che faccio? Lo vedo? Glielo dico. Brava. Stasera? Non è possibile, stasera è un impegno. Con chi? Con la figlia. Ma... Anzi, quasi sicuramente. Io vorrei avere un impegno per sfuggire. Non lo so, non sono sicurissima. Però è quasi sicurissimo. Ti prego, dimmi. Sì. Sì. Elisa? Che ti succede? Anch'io domani sarò più vecchia di oggi. Che ti succede? Che ti succede? Che ti succede? Che si succede? Che ti succede? Poco dei grassi a farmi partire, arriva e arriva, e arriva e arriva. Mi hai mandato a chiamare? Sì, volevo ricordarti anche che questa è una scuola e non una discoteca. Forse ti riferisci al fatto che i bambini oltre a imparare le sette note si stavano anche divertendo? Noi ci divertivamo allo stesso modo con un vecchio scarpone che era un... Scusa se mi permetto ma sei indietro di ere geologiche. Vedi, vecchio scarpone, era già vecchio quando mia zia era giovane. E poi un po' di musica pimpante, fa bene anche a te, no? Come vanno le tue catalessi? Benissimo. Nel senso che continui ad addormentarti. Volevi risolvere il mio problema con una jam station permanente in quarta B? E tu pensi di risolverlo con questi stimolanti? Comunque se hai finito di rimprovermi io me ne andrei. Non ho finito. Anzi volevo dirti che stasera avremo un mucchio di cose da fare. Quindi non prendere impegni. Da fare in che senso scusa? Decidere la gita per i ragazzi, con quale agenzia la faremo, quale guida. Senti Lisa, i bambini hanno fatto la gita 15 giorni fa, no? Ma di che cosa dobbiamo parlare? Della gita dell'anno prossimo. Sempre l'ultimo momento dobbiamo risolverle queste cose noi. Ma perché scusa? Hai in mente una cosa tipo, non so, il giro del mondo in 80 giorni o... O tutta questa tua fretta nasce dal fatto che in questi giorni sei leggermente ansiosa? Ti sto chiedendo un po' di conforto, no? Poi non abbiamo ancora neanche scelto il ristorante. Guarda che bambini hanno sempre mangiato al sacco. Non siamo ad Harvard, siamo a Forte le Marbie, Lisa. Il ristorante per noi due stasera, oh ma sei proprio... duro, eh? Ah, per noi... Ah, per noi due stasera? Scusa, non avevo capito. Perché dobbiamo parlare della gita del prossimo anno? Precisamente. Ah sì, sì, mi sembra una cosa molto urgente. Ultimamente io non mi ci davo pace, sì? Allora alle nove. Sì, ti passerò a prendere e ti amo dire piano. Vediamo che scusa c'ha questa volta. Eh, vorrà fare un corso di samba forse questa. Ah, Elisa. Ah, Stefano, meno male sei qui. Guarda, qualcuno ha rubato 10.000 lire a Simone, le aveva messo nel libro di scienza. Sì. Stasera. Ma dico, sei sicura che fossero soldi? No, perché l'ultima volta nel suo libro ho trovato due fette di mortadella. Nessuno ammette, io ho fatto votare tutte le cartelle, ma non ho trovato niente. La classe sembra diventata una cartolibraria. Donna che faccio sbattuta. Oh, qua sono ancora a ripari. Perché li hai messi lì in piedi? Perché è stato uno di loro. Sono sempre loro i più scalmarati, mi fanno impazzire. Scalmarati? Sì. Guarda che i ladroncoli fanno di tutto per non farsi notare, sai? Vabbè, intanto adesso dovranno rivoltare le tasche e poi la vedremo, eh. Giovanna, io vorrei ricordarti che questa non è né un commissariato né una dogana. Per cui... Tornate al vostro posto, ma io sono. Insomma, questi soldi devono saltare fuori, se no di qui nessuno se ne va. Cosa fai, cucini tu per tutti? Dicevo solo per spaventarli. Lo sono già abbastanza. Simone, tu sei sicura al cento per cento che avevi quei soldini? Sì, ho anche la prova. Ieri sera mi è caduto un dente e l'ho messo sul comodino. E stamattina il topolino mi ha fatto trovare diecimila lire. Gli hanno visti tutti i soldi. Sì, è vero, gli abbiamo visti tutti i soldi. Però secondo me se lo merita, è la terza volta che frega la madre. In che senso? E a te che te ne importa? I denti sono miei e ci faccio quello che mi pare. Simone, adesso metti di seduto. Senti, perché non mi spieghi meglio sta storia della mamma? Mamma crede che mi sono caduto i tre denti, perché il topolino è mia madre, no? E io ho visto dove li nascondeva e me lo sono andata a riprendere. E mi sono fatto ripagare tre volte, vabbè. Beh, ho sbagliato. Ma quelle diecimila lire erano le mie. Ma allora io potevo diventare ricchissimo. Bambini, quello che è successo oggi è molto grave. Prima di tutto, Simone, tu devi restituire i soldi a tua mamma, dei finti dentini caduti. Poi, fai conto che queste siano le diecimila lire che ti hanno rubato. Invece, quello che ha rubato veramente le diecimila lire dovrà restituirgli al sottoscritto. È chiaro? Perché come diceva Abramo Lincoln, un grande presidente americano, si può nascondere qualcosa a poche persone per sempre. Si può nascondere qualcosa a tutti per qualche tempo. Ma non si può nascondere qualcosa a tutti per sempre. Soprattutto all'angelo custode. Vabbè, adesso andate, che è ora di ricreazione. Ma come, basta così? Cosa devo fare? Metterli agli arresti domiciliari? Vabbè, tu ci sei. Non è vero, io non ho fatto niente. Sei uguale a tuo padre. Ma Enrichetto, perché parli così? Sei stata tu e te lo farò confessare. Maestro, posso chiedere alla direttrice di farmi uscire? Ho un mal di pancia terribile. Sì, certo. Insomma, diciamo, è sempre chiuso un caso, no? Così, con tua zia. Eh? Ah, sì. Sì, mia zia è una donna molto sola. Anch'io. Eh, ma tu non sei mia zia. Scusa, ma adesso ho un problema, devo andare. Sì. Io non la prenderò mai, mai, per tutta la vita. Sì, è vero, Giovanna è esterica. Ti sembra il modo di fare? Ah, Enrichetto, finalmente. Dov'hai finito? Mirella mi ha chiesto il permesso di uscire prima. Non so, stava male, piangeva. Che cosa è successo? Io non me ne sono accorto che lei piangesse. Però avete avuto una discussione, no? Mi che è colpa mia. Quella è mezza matta. Ah, è matta? Io l'ho solo detto. Le hai presi tu i soldi. Ho chiesto. Che non si può neanche chiedere. Allora mio padre non potrebbe più fare il suo lavoro. Tuo padre è un commissario, giusto? Quindi è lui che deve fare le indagini, non tu. Ma sai perché lei mi odia? Perché io so di suo padre. E cosa sai? È un segreto. Ma ho sentito mio padre che diceva... Non te lo posso dire. E lei lo sa che io lo so. Va bene. Se è un segreto non me lo devi dire. Però non è giusto accusare delle persone quando non si hanno le prove. Quindi, quando esci le telefoni le chiedi scusa. E come faccio? Lei non ce l'ha il telefono. Vabbè, se non ha il telefono vai direttamente a casa sua. No, non è nemmeno una casa. Vive in una piazza. Come vive in una piazza? Cosa vuol dire? Ha Enriquezzo. Ha le fiori. Che fiori? Ma Enriquezzo mi aiuti a fare le tricce veronica. Ci saranno due persone. Sì, arrivo subito. No, ma... Ma come devo... Ripeto, patata, cetriolo, miele, yogurt, succo di limone, frulli tutto, poi te lo sbatti sul viso per un'ora. Un'ora, Claudia? Due gocce di olio di fegato di merluzzo. Ma quello fa schifo, puzza, dai. Fanno più schifo le occhiaie. No, scusate, ho bisogno di parlarci. Vabbè, io vado, la campanella suona. Tu potresti... Ciao. Dimmi. Non era una scusa quella di Giovanna, c'è stato un furto in classe. Hai riuscito a convincerti. Senti, non sto scherzando. Io ho bisogno dell'indirizzo di Mirella Bardolini, la ragazza che... Perché di Mirella? Perché voglio parlare con la madre. Senti, ce l'ho in direzione e comunque devo scappare adesso, mi dispiace. Senti, la madre non è mai venuta ai colloqui, perché pare sia molto occupata coi fiori. Con i fiori? Sì. Sì, può darsi, comunque mi dispiace, Stefano, adesso devo proprio andare via. Perché sei così evasiva? Perché devo andare a comprare l'olio di fegato di merluzzo. Ma perché stai male? No, ma Giulia è deparita ultimamente. Ma se scoppia in salute, Giulia, o non... Ah, Giovanna, senti, l'indirizzo della Bardolini, no? No, non ho nessun'indirizzo, poi ho lezione, scusami. Buone, chiamo. Buon riso. Come dico io? No, come dico io? No, come dico io? No, Simone, che come dico io? Lascia stare. Buon attento. Basta, Simone, ha ragione. Sì, va. Sono da cartellare. La c'è, Elvira, ti fanno tribolare? Prima ci fermavano le porte con le cartellesse, ci giocano al ballone, nella strada, queste peste. Su, dai, non te la prendere. Senti, è vero che tra poco è il tuo compleanno? Non ci sono più compleanni, soltanto nomastici. Ah, sì? Peccato, perché, vedi, io volevo regalarti dei fiori. Ah, potrebbe essere Santa Elvira. Ecco, tanto Santa sono, lo diventa stare qua dentro con questi biscuit. Fiorellini di campo, sai che io sono modesta. Sì, sì. E dov'è che posso andare a comprare questi fiorellini? Semplice, dalla mamma della Mirella. Sta un po' lontanuccio, ma insomma ci va anche l'Elisa. Come ci va l'Elisa? L'Elisa, ha passato tante quelle, ma adesso, posto che ho schietto, forse si rimette, mia povera Lilla. È dura sta sole, sai. Via del Paradiso abita. Eh, grazie, eh, ciao. Ciao, tesoro. Mettici anche due rosanine, magari. Mirella. Mirella, che sei? Il maestro. Mirella, ci sei? Ciao maestro, volevi parlare con me? Io non c'entro, non gli ho presi io quei soldi Ah, ma io sono qua per comprare le fiori, sai? Ah Uh, che bella questa Per carità, le begoni sono un'angoscia Queste basta che le guardie già stabiliscono E allora queste? Le bocche di leone, no Il tempo che arrivi a casa, quelle già le devi buttare E allora non rimane che un classico Il bocciolo di rosa Non sono boccioli, sono carciofi Come carciofi? Perché quando entrano in coma Li sfogliamo come carciofi E poi li vendiamo in ristoranti Stai fresco ad aspettare che sbocciano Mamma mia che stress questi fiori Tutto il tempo a vedere se vivono Se respirano Quando fa freddo gli devo metterla a copertina Se fa caldo gli devo fare lo spruzzino con l'acqua Ah Sono con i crisantemi puoi stare tranquillo Le fiori dei morti non muoiono mai No No, 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 no Credo che a Elvira non piacciono questi fiori No Ma, dico, non farai mica tutto da sola qui, no Dov'è la mamma? Mamma è in ospedale a trovare papà Perché cos'ha papà? Sono sei mesi che sta male Non si sa quando tornerà Ma non lo deve sapere nessuno Ed è per questo che hai litigato con Enrichetto? Enrichetto ha le spine Come le piante grasse Gli devi stare lontano Maestro Non lo so se ci torno a scuola Prendi le gardeni per Elvira Hanno bisogno di mezz'ombra e di acqua piovana E ci devi parlare tanto Lo vedi com'è bella questa? Io ci ho fatto certe chiacchierate Io non sono una gardenia, no? Però so mantenere i segreti Voglio dire Se tu domani volessi approfondire il discorso della malattia di tuo papà, no? Sai dove trovarmi? Ci metto anche un fiocchetto colorato Ma guarda che il fiocchetto è piccolo Sì, grazie Grazie Andiamo un po' Guarda, bello, no? Speriamo non sia un carciofo Come un carciofo? Quando le rose entrano in coma I fioristi le rifilano ai ristoranti Non lo sapevi, eh? Con le gardeni invece bisogna parlarci È molto importante I buco di lione sono delicatissimi Invece i crisantemi sono resistentissimi Cosa, da quando in qua sei tutto sui fiori, te? Da quando sei tutto di Mirella Di Mirella? Elisa, perché non mi hai detto che il padre di Mirella era un pregiudicato? Cosa pensavi che se l'avessi saputa l'avrei spattuta fuori dall'aula? Volevo proteggerla Ho paura che i bambini, sai come sono fatti, la considerassero così diversa Sua mamma, mamma, aveva pregato di... Sì, ma io sono il suo maestro E se non so tutto dei miei alunni, come faccio ad aiutarti? Hai ragione, avrei dovuto avvisarti Scusate, ragazzi è finito Sì, grazie La verità è che tu non hai fiducia in me Se io l'avessi saputo Avrei evitato che Richetto accusasse Mirella di furto a scuola Io non lo so come avresti fatto, ma... Come si fa, dico io? Ma uno perché è figlia di un ladro Allora anche lei doveva essere ladra Però chissà quante cose mi hai nascosto sui ragazzi E anche su di te Si va sempre a finire a parlare di noi Gradite un dessert? No, grazie Beh, non ci vedo niente di strano, siamo qui ieri al ristorante Che c'è? Non lo so, c'ho com'è Della nausea, mal di pancia Beh, ti avrà fatto male qualcosa, no? Avrei fatto male te, ma avrei fatto male Ma guarda che ti sei mangiata due piatti di fritto, eh Sono comunque più digeribili di te Signori, grazie, non lo d'essere No, grazie No, grazie Senti, scusa Io non volevo che stasera finisse così Una discussione Non si direbbe Tutte le volte che si va a finire a parlare di noi Mi fai finire certi... Certi attacchi dulce, la guarda Scusami Tra l'altro stamani ero così contento Sì, perché per me oggi è una sorta di... come dire... di anniversario, ecco, sì Anniversario? Sì Vedi, praticamente è passato un mese dalla fatidica notte in cui tu non hai fatto l'amore nell'aula docenti e non eri ubriaca No No cosa che non hai fatto l'amore? Ma se l'hai... se l'hai ammessa anche tu... Ma guarda che non è mica passato un mese Allora, ragione, in effetti sono tre mesi da quando ci siamo incontrati e circa un mese che stiamo insieme Scusami, devo andare via Ma perché scusa? Perché è passato un mese No, cioè, sono passate le dieci e la signorina Claudia doveva tenermi... cioè, dove andare a dormire... Giulia deve andare a dormire E la signorina Claudia, insomma, io me la devo andare, scusami, ciao Ma Elisa, scusa... Elisa, scusa! Elisa, aspetta, ti accompagno No, non importa, ciao! Com'è possibile? Sei già stancata dopo un mese e cinque giorni? 15 settembre e 15 ottobre, no, non può essere un mese No, c'è il 30 No, sarà il figo, tu non ci stifare io Io non posso essere incinta Non posso essere incinta Tutta la casa è sulle mie spalle Io devo stirare, lavare, candeggiare Lei non vuole fare più niente, nemmeno la spesa, capisci? Mi ricatta Perché? Perché gioca a poker E vinci? Perdo E allora ha ragione lei, Carlo, scusa, eh Ma non lo capisci che devo farlo, che sono costretto Tu non lo sai cosa vuol dire fare il vigile? Tutti che ti odiano, che ti scansano Cioè, fammi capire, tu per farti amare dagli altri devi perdere a poker Eh già, è l'unico modo che ho per istituire i soldi agli amici a cui faccio le multe Ecco, guarda, per esempio, Stefano, vedi? Quello è Luigi, posteggia sempre come un pazzo Ma adesso ci penso io, ci penso, eh Dai, piantala, Carlo, poi le devi restituire tutte a poker Non c'è niente da fare, io sono un vigile integro, integro, niente favoritismi agli amici, capito? Ecco, per esempio, Stefano, guarda, questa è la macchina di maglia Adesso ci penso io Adesso basta Ti faccio l'ho Basta, ci farò Carlo, scusa, eh Ma che ci fai con tutta sta camomillare? Anestesia Quanta ne devi bere? Ma non la bevo, io la faccio bere a tua sorella, è l'unico modo che ho per calmarla Che mascal soncello Chi io? Tu non la conosci, quella donna è una furia Eh, scusi, senta Senta, abbia pazienza Cosa fa? Scusi, eh no, mi stavo chiedendo Mi dica No, le buste Quali buste? Ecco, le buste di formaggio Eh, e allora? Ma dico, come mai una ha la confezione trasparente mentre l'altra ha le striscettine blu? Perché? Eh, non lo so, sono cose che decide la ditta Alla ditta, sì Non è invece per questioni igieniche No, ma che igieniche? Non serve il parmigiano, che ti importa? Per favore, Carlo, non ti picciare Quindi semplicemente per, dico no, per il consumatore In questo caso me Il che vuol dire? Che c'è in giro della gente che ha una così bassa considerazione di me Che pensa che io possa acquistare una busta invece di un'altra semplicemente perché una è trasparente Mentre l'altra ha le striscettine blu Ma devi dicare che quindi conoscono tutti, dai Carlo, per favore, ti ho detto, stai zitto Sa cosa le dico? Che io non mi lascio condizionare dalle striscettine blu Quindi non le compro Faccia un po' come le pare Ma che fa? Dove va? Ma dove va? Ma lei lavora qui? Eh sì E che mi lascia andare via così? Ma mi convinca, no? Faccio qualche cosa? Allora, mi stai a sentire la busta trasparente Da una parte è soddisfa l'occhio e dall'altra è segno di qualità Robertino? Robertino, dove sei? Ma dove ti hai ricacciato? Ma mamma, hai dimenticato lo iagua? Scusi, ma perché la fa così lunga? Io sono allergica al parmigiano Oh madonna dei matti Le ho dato anche a lui la camomilla, ciao Eh, ciao Pronto? Da quale era del castello provieni? Ero sotto la doccia Devi essere bellissima allora Mai chiamato per dirmi questo? Però non mi aspettavo di trovarti nuda Non sono nuda, sono l'accappatoio Bugiarda Guarda che ti vedo, sai Adesso sei sul letto e hai accavalato le gambe E ti stai passato una mano tra i capelli Ma chi sei il tenente Colombo, te? No, per oggi ho fatto una piccola inchiesta E ho scoperto chi è il ladruncolo Ah, e chi era? Ah, ah Te lo dico di persona, sono cose troppo personali Senti, però tu hai il dovere di avvisare la famiglia E di prendere provvedimenti, hai capito? Va bene, va bene, stai calma, non ti arrabbiare Eh, potrebbe cadere l'asciugamano E potresti rimanere completamente nuda Se ti piacerebbe Da morire Senti, allora che faccio? Vengo da te a dirti chi è il ladruncolo No, lo devi dire a sua madre Sei tu? Giulia Ma no, ma dai, non è possibile Stefano Va bene, va bene, scherzarlo Non è Giulia Però è duro, vai a sentirselo dire Va bene, farò come... come dici tu Lo dirò alla madre Dai, adesso vatti a asciugare Mi sono già asciugata al telefono Ah Allora le mie parole ti hanno scaldato? Di rabbia, sì Ciao Vede signora, io l'ho fatta chiamare perché c'è un piccolo problema, no? Robertino Ah, in italiano, vero, beh lo so Non è il suo forte È come se il bambino non riuscisse ad esprimersi Pensi che sua sorella Cristina invece Già a cinque anni faceva dei temi Ancora li conservo No, non è l'italiano Ah, è la storia allora Beh sì, non memorizza le date, lo so L'altra figlia invece ha una memoria fotografica Pensi che con mio marito stiamo pensando di far entrare in una delle migliorie di scuole americane Perché un buon lice italiano? Di questi tempi le scuole italiane Ecco, no, io volevo dirle che Robertino, come dire, è un... È un ragazzo estroso, brillante, un giocherellone Forse un po' immaturo Sento, ma allora la geografia, vero? Perché anche l'anno scorso non mi funzionava No, non è la geografia Ma allora scusi, non capisco Non sarà un problema di condotta, vero? Perché se mio marito sapesse che mio figlio si comporta male Guardi lui su certe cose e non transige No, va tutto bene Ah Sì, c'è un piccolo problemino, ma... Riguarda... Cosa? L'educazione musicale, sì Ah Comunque, niente di grave, va tutto bene Mi scusi se l'ho disturbata, ecco Grazie per essere venuta Ma no, anzi, io adesso sono più tranquilla Sono contenta che sia lei a seguire mio figlio Grazie, maestro Arrivederci Arrivederci Polizia, la polizia, la direttrice, dov'è la direttrice? Calmati, calmati Cosa è successo? È successo una cosa gravissima, Stefano Perché uno di questi angioletti qui mi ha rubato l'autoradio E sono dei ladri Ladri, quali ladri? Andiamo piano con le parole, ladri Andiamo piano con le parole, però sono dei ladri Perché mi hanno rubato la radio Pertanto ve l'ha già detto Giovanna e tu li difendi Senti, non ti agitare Magari la radio l'hai persa Oppure l'hai lasciata in macchina Ma quale in macchina che ormai vivevo con quell'apparecchio incorporato Lo tenevo sempre qui sulla cattedra Era meravigliosa Otto memorie Ricerca digitale del canale 22 rate ancora da pagare, Stefano Scusa, scusa, scusa Otto memorie, hai detto? Otto memorie, ricerca digitale Senti, aspettami l'autodocente Io te la vado a cercare, sai L'autodocente, questi ciccini ciccini L'hanno già mandato a Singapore Zia? 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 Fatto memoria, ricerca automatica, che dico una mani buona. Non posso, rompo il fiato. Ma che fai, scusa? Ti metti anche la mia roba adesso? Volevo dirti che facevi meglio a lasciarla in macchina l'autoradio, perché sono costretta a rubarla. Sì, vabbè, però no, è peggio perché, vai. Perché me ne porto? Non sono mortificata. Perché me ne porto? Io li denuncio. Ho giù il bagno delle donne? Buongiorno. Buongiorno. Ah, ah, caldo. Ferma, ferma qui. No, ma non è su, eh. Sì, lo so, lo so. È molto caldo? No, ma il clima fuori è rigido, sarà tiepio. Ma è della signora ginectrice. Sì, lo so, lo so, però lei è molto nervosa. Allora ne beve metà e così è più tranquilla. Ciao, grazie. No, è deluccio. Ah, bene. Puoi tradire il segreto istruttorio e dirci se hai trovato l'aria furtiva? Beh, dando una prima occhiata... Cosa? No. Però siamo molto vicini alla risoluzione del problema, sì. Intanto direi di fare una pausa al caffè, perché... Oh, scusa! Scusa, che spadato! Scusa, 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 scusa. Io non lo so, ma che... Le avevo chiesto aiuto. Sì, io penso che io per la madre non ti preoccupare. Ci vuole l'acqua, l'acqua del bagno, ti accompagno io. No, ci vuole l'acqua del bagno, l'acqua del bagno. Ma come l'acqua minerale va bene allo stesso? No, l'acqua minerale no, perché lascio tutti i sedi delle bollicine su un uo. Guarda, ma guarda, ma... Ci vuole, ti ho detto che ci vuole l'acqua del bagno delle donne, sì. Certo, come no? Altro che bollicine, i carabinieri ci vogliono. I carabinieri! Hai detto che era nera l'autoradio? Sì. Con la spetta digital? Sì, perché? Ma è qui, Bruno, l'ho lasciata nel bagno. Sì, non l'acqua del bagno. È qui. Questo non è possibile, io non so come spiegarmelo. Nel bagno delle donne? Nel bagno delle donne. Tutto questo è assolutamente inspiegabile e increscioso, signora direttrice. Lei mi deve credere, io no. Proprio non riesco. Sei veramente distratto, sai? No, dico, una radio che costa 827.000 lire. Un momento, che ne sai che costa così? Che ne so? Eh, lo so, lo so. Non è una radio che si compra tutti i giorni. E divino anche tu, Elisa. Sì, anche mia figlia me l'ha chiesta per i 18 anni. Se comincio a pagarla adesso, forse per il momento, poi ce la farò. Beh, io torno in classe a scusarmi con i ragazzi. No, 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 non occorre che tu ti scusi. Passo dopo io e dirò che è stato tutto un malinteso. Beh, grazie Stefano, sei un vero amico. Comunque io ho fatto una cosa terribile. Io ho accusato dei bambini innocenti. Io non sono più me stesso. Questa è la verità. E questa è la cosa. Arrivederci. E ci... Vabbè, vado anch'io. Ciao. Tu non vai proprio da nessuna parte. Tu non vai proprio da nessuna parte. Fin quando non mi disci il nome di quel ragazzo. Va bene, va bene, hai vinto, te lo dico. Il nome del ragazzo è... Arsegno. Bene. Ciao. Ma, non puoi smettere di prendermi in giro, te? Non c'è nessuno in questa scuola con quel nome. Sì, è vero. Però devi ammettere che era affascinante, no? Arsegno. Stefano, senti, e tu devi fare il maestro. Non tirare su una banda di soliti ignoti. Non esci di qua. Fin quando non mi dici dove hai ritrovato quella radio. Senti. Sei hai intenzione di stendermi ancora una volta su questo tavolo? Primo, questa volta tu sei lucida. Secondo, io farei cinque minuti una lezione. Quindi... Verrebbe fuori una cosa, come dire... Un tantino precipitosa. E comunque la radio l'ho trovata a casa di zio Tilia. L'aveva rubata lei? Ma no, io l'ho rubata la zia. Vabbè, poi un giorno ti spiegano. Senti, vorrei sapere cosa intendi farti per risolvere questa situazione, guarda. Oh, beh, è semplice fare una commedia. Quella la fai sempre, se è per quello. E poi, scusami, non abbiamo la sala mensa, non abbiamo la biblioteca. Te ne esci col teatrino, non ho capito. Ma non vorrei mica andare nel sottoscala, eh. Brava. E come fate a indovinare? Una commedia. C'entra una commedia con un piccolo ladro, non so. Perché si chiama proprio così, guarda. Sì, è una commedia straordinaria. Sì, è del... Kircher. Di chi? Ecco, ma non conosci il Kircher. No. Devo sapere per forza. È famosissimo. È un autore contemporaneo di Shakespeare. Danese. Autore minore. Vedrai che la cosa piacerà molto anche a te. Senti, i miei ragazzi non fanno nessuna commedia, se io prima non l'ho letta. E la voglio leggere domani. Domani? Se è famoso, sarai tutte le liberine. Domani, eh. Domani. E domani l'avranno. Bene. Bravo. Mi sa che stanotte il Kircher avrà un sacco di lavoro da fare. Dai, non c'è un ciasco. Non c'è un ciasco. Fermo un po', vieni un po' qua di chietto. Ciao, ciao, ciao. Senti un po', avrai notato che Mirella da quando avete litigato non è più venuta a scuola, no? E allora? Come allora? Beh, ma tutto il tuo grande genio investigativo dov'è finito? Se lei non era a scuola, mi spieghi un po' come ha fatto a prendere la radio del maestro, eh? Sì, è vero. Allora adesso tu prendi, vai a casa, le chiedi scusa e io ti accompagno. Ma come faccio a chiederle scusa così? Ve le voglio portare un regalo, qualcosa. Bravo, questa è un'ottima idea, sai? Se un pensierino, un regalino, sì. Prendi, prendi quei fiori. Ma che li rubiamo? Prendiamo il prestito. Come prestito? Prestito, sai cos'è un prestito? Tu li prendi, no? Poi dopo, una volta che... Io ti chiedo perdono, voglio che torni a scuola. Mi sento triste senza di te. No, non ci torno più a scuola. Scusa, ti siedi un attimo, così parliamo. E va bene, parliamo. Il maestro ha detto che dobbiamo fare una commedia e tu sei una delle protagoniste. E credo che mi devi dare anche un bacio. Facciamo una prova, mi dai un bacio? Quale prova? Sei pazzo? Non ti bacerò mai. Ma allora essendo un rospo. Il maestro dice che io sono un rospo. Però tu mi baci e diventi un principe. Non diventerai mai un principe. Ti avevo portato anche i fiori. Oh no, ancora fiori. I fiori muoiono. Ma questi sono secchi, durano per sempre. Come l'amore. Ma tu che ne sai dell'amore? Tu non vuoi bene a nessuno. Non è vero, voglio bene a te e mi dispiace per tuo padre. Allora ci torni a scuola. Ma non c'è Mirella? Ah, buongiorno signora. Mi scusi, desidera. Io niente. Io sono il maestro di Mirella, di sua figlia, sì. A piacere. Oddio, mi è successo qualcosa alla bambina? No, 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 non è successo nulla, stia tranquilla. Mirella è nella roulotte con un suo compagno. Non si preoccupi, non è successo niente. Come faccio a non preoccuparmi, se sapesse. Mi scusi, io non sono ancora venuta a parlare con lei perché io... Non si deve giustificare, signora, vede, io conosco la sua situazione. Io ho tanti di quei problemi che non so più come fare per tirare avanti. Io sono sola, sai, qua i fiori non si vendono. Il mio marito chissà quando, sono appena andata a trovarlo. Mamma! Mamma! Mamma, lo sai che faccio l'attrice? L'attrice? Eh sì, abbiamo deciso di fare una commedia a scuola, vero? E avremo bisogno anche del suo aiuto, o meglio, delle sue piante. Sì, perché ora che ci penso, vede la commedia ambientata in un bosco, in un antico castello della Cornovaglia. E chiederemo ai genitori dei bambini di acquistare le piante al termine della rete. Magari, io le porto tutte con il camioncino. Ah, mamma, lui è il rospo. Rospo? Ma come, se è così carino, sembra un principino. Certo, perché l'ho già baciato. Non è difficile scrivere una commedia, dunque. Allora, concentrazione, primo tempo, primo tempo, ecco, poi, poi la trama. No, perché non è difficile, l'importante è difficile scriverla, scriverla in una notte, dunque. Che strazio. Big, 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 blizzato. No, non vale, non vale blizzato. No, 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 mandiamo a monte la partita. Ma perché? Ma io vorrei sapere com'è possibile che il mio corpo mi sto per chiudere, tu e blizzi. Non me lo spiego. Guarda, per me puoi ingegnare. Ma perché sei... Si manda a monte la partita, perdonati. Ma non è vero, perché si deve mandare a monte? Sì, si deve mandare a monte. No, carino. Tu lo sai, zio. Lo sa, volete smetterla, per favore? Possibile che ogni volta che giocate a carte dovete litigare? Io sto lavorando, sai? E poi è venuta anche fame adesso. C'è qualcosa da mangiare? I biscotti lì. Ma che biscotti? Voglio qualcosa di salato. C'è il formaggio in frigo? Ma sì, nel frigo c'è tutto, no? Guarda, lo sai che c'è tutto. Vabbè. Se non riesci a vincere neanche da lei, eh. Ah, non riesco a vincere? Guarda, caro Stefano, guarda. Cosa nascondi qui, cara zietta? Cosa sono queste cose? Cosa sono queste cose? Guarda. Cosa c'entra. Cosa c'entra? Non cambi mai. Questo vestito qui non lo metto da due anni sul mastellino? Scusa del vestito. La verità è che tu sei una bara. Sì. Una cassa da morto. Non esiste bara, si dice baro. La zia è un baro. No, io non sono né un baro né una bara. È lui che non sa perdere. Ladro. Ma lo senti che dice? Ma lo senti che dice? Oltre che vince barando, mi accusa anche di furto, mi accusa. Sì, perché sei tu che mi hai preso la mia autoradio e la colpa è tua che mi hai detto di lasciarmi a casa. È inutile che lei di. Sì, 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 va bene. Te l'ha preso lui la radio, però adesso non ti preoccupare che non so lui però te lo restituisci. Ma cosa stai dicendo? Ma stai zitto, stai zitto, stai zitto. Stai zitto. Hai talmente tante colpe che ti puoi prendere anche questa. E poi comunque basta con questa storia della radio, eh. Io devo lavorare, sto scrivendo una commedia e ho bisogno di molta concentrazione. Sei Ristreller, eri a Milano, no? Ci andrò a Milano molto presto. Ma chi te lo fa fare, dico io? Ecco, chi te lo fa fare? Vuoi di che non capisci niente? Il teatro aiuta le persone, perché le persone si identificano con i personaggi e quindi comprendono meglio la loro vita. Io al teatro mi addormento sempre. Meglio? La tua vita è un disastro. Zia, zia, dai! Lasciala parlare, lasciala parlare. Una sera al teatro russavo così forte che l'attore per farmi interrompere mi faceva... Poi ti sei svegliato però, eh? No, no, russavo sempre più forte. Pensa che gli ho dovuto ficare la mia spilla di rubini nella coscia per svegliarlo e farlo smettere. Ma sì, non vedevi l'ora. Se fosse stata una commedia del Kircher, tu non ti saresti mica addormentato, te lo dico io. Il Kircher? Sì, il Kircher. Il Kircher. Il Kircher. L'ho studiato al liceo e il mio autore preferito ha la bellezza delle sue fiabe nordiche. Che belle, che belle. Ma che dici? Eh? Ma che dici? Il Kircher è un'invenzione mia, non esiste. Ma la vedi che sei una bugiarda? Ma la vedi che sei una comediante nata, eh? Come te? Siamo della stessa famiglia, sai? Da un pino nasce un pino. Sì, e da un baro nasce un baro. Uh, Stefano, vai tu, può darsi che sia il postino. Vai a vedere. E tu fa la finita, eh? Sì, sì. Speriamo che sia il postino, perché Orso Bruno non mi ha ancora scritto. Ma chi è questo Orso Bruno? Un ingegnere di Padova. E perché lo chiami così? E perché è una razza in via di estinzione, no? Come gli Orsi Bruni. No, gli ingegneri sono in via di estinzione. No, gli uomini si stanno estinguendo. Ma ci sono più, finiti. Cara anzietta, io non sono ancora affatto finito, va bene? Sì, tu sei finito adesso. No, la rivincita mi dai per favore. Certo, certo. Senza parare questa volta. No, io ti blizzo un'altra volta. Sì, sì, blizzo. Sì, sì, blizzo. Gira la vela. Vabbè, giro la vela. Ti devo parlare? Eh, entra. È meglio che te lo dico qui, dopo mi sa che mi vorrei cacciare. Dai, entra. Perché ti dovrei cacciare? Perché sono stato io. A fare cosa? Sono io il ladro. Ho rubato io l'autoradio del maestro di matematica e le dieci mila lire di Simone. Ah, sì? E dove li hai messi? Le dieci mila lire, ecco. L'autoradio invece l'ho buttato in mare, così i pesci sentono la musica. Adesso che mi fai? Lo sai che io ti potrei far sospendere? Lo so. E lo sai che io lo so che non sei stato tu? Sì che sono stato io. Non si fa questo per aiutare un amico. Ma se sai chi è, perché non fai qualcosa? Perché non lo fai tu? Beh, io mica faccio la spia e poi sono suo amico. A chi io voglio essere mio amico. E allora? E allora dobbiamo aspettare che lui trovi il coraggio per ammettere che ha sbagliato. Sono tu le dieci mila lire? Faghetta di due settimane. Comunque hai fatto bene a venire qui, sai? Mi hai fatto venire in mente una cosa. Cosa? Non ora, se è il Paolino Duca di Danimarca. Non ora. Ciao. Ciao. Ah, ti piace mozzarella e pomodoro? Sì. Eh, un appetito. Ciao. Ciao. Grazie. Allora, se è il Paolino Duca di Danimarca, si autoaccusa di furto. Ma se è Robertino, Duca Caro Lungio, è per ladro. Inizialmente però viene accusata ingiustamente l'ancellina. Dai, ti dai ladri. Beh, bella idea. Allora, se è Robertino, è il mio lato. Se è Polino, tu invece, è Rolino. È geniale, Stefano. Davvero? Guarda, è la cosa più commovente e poetica che abbia mai letto per il teatro dei bambini. E ci credo. Eh, che avrei detto nulla? Il Kircher. Allora cominciò le prove con i bambini. Sì. Senti, ma come mai ce l'avevi già dato il tuo scritto? Perché era una cosa che avevo lì da tempo. La tenevo lì. Perché era una cosa molto interessante. Allora era lì. Io allora vado a avverti i bambini. E tu ricordati, ricordati di aver detto che il Kircher... È geniale, eh. Io avverti i bambini. Elisa? Sì? Senti sull'agenda, che oggi è detto che il Kircher è un geniaccio. No, ma ricordatelo. E' un genio, è un genio, è un genio! E' un genio, è un genio, è un genio, è un genio, è un genio! Mamma mia! Che schifo! Quante ragnatele! State attenti ragazzi, perché non si vede bene. Bene ragazzi, a lavoro! Alla carica! Mamma mia! Mamma mia quanta cosa è scuota? Guarda quanto spara! Ragazzi, vuole un'altra? Valici! Sì, come va? Sì, sveglia! Sveglia! Va a postanza! Mirella, come va con il pavimento? Ragazzi, è mezz'ora che lavoriamo e ancora tutto sporco. Hai ragione. Hai ragione, hai ragione, guarda che roba. Dico, ma vi sembra questa la maniera di lavorare? Vi dovete organizzare, capite, organizzare. Prima cosa da fare, togliere tutta questa roba da qui. Ragazzi, ma cos'è questo portoglio, dai. E mica siamo in prigione, no? Andiamo a lavorar. Dai. Se insieme poi si fa. È una gioia, è una gioia, è una gioia lavorar. Faremo un bel lavoro, cantiamo tutti in tono. Al lavoro, al lavoro, al lavoro, guarda me. Faremo un bel lavoro, cantiamo tutti in tono. Al lavoro, al lavoro, al lavoro, guarda me. Faremo un bel lavoro, cantiamo tutti in tono. Al lavoro, al lavoro, al lavoro, guarda me. Grazie, 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 fiori. Buonasera, maestro. Che bello. Dove le mettiamo queste piante? Così poi andiamo a prendere le altre che abbiamo nel fungo in giro. Guardi, può posarli qua momentaneamente, poi li facciamo sistemare dai bambini. Benissimo, ragazzi, vi aiutate? Sì, sì. Sì, sì, sì. Pulite bene, ragazzi, anche là. Lai, prendiamoli, vedete? Ecco. Eccola, Giovanna. Mi dai un'altra bottina, Giovanna, ci provate? Fai caduta. Sì, anche. Ah, ecco, grazie. Buonasera. Ah, buonasera. Buonasera. Che bravi che siete. Trovi? Beh, veramente è un lavoro magnifico state facendo. Sì, pensa, hanno fatto tutti i ragazzi. Bravi, complimenti. Ciao, mamma. Ciao, Giulia, amore. A casa non ti rifai neanche il letto, eh, tesoro. Hai ragione. Da domani ve lo faccio. Sarà meglio, vai. Brava. Senti, Elisa, perché non rimani con oggi da nonare? No, devo andare, scusa, in direzione a sbrigare una faccenda. Buon lavoro, comunque. Grazie. Buon lavoro, ragazzi. Grazie. Buon gioia, ragazzi. Bene, bravi. Faremo un bel lavoro. Cantiamo tutti in coro al lavoro, al lavoro, al lavoro, al lavoro, al lavoro, quarta B. Rosmarino per il rastodamento. Fucus e tarassaco per tonificare. Limone e pompelmo per drenare. E menta e melissa per i nervi. Oh, dopo sto bagno sembrerai una ragazzina, eh? Speriamo. Ma, ma Elisa, stai benissimo. Ci dovrei entrare io nel termassaggio. Siete, guarda che ce n'ho un bisogno, invece. Senti, ma... Hai delle tette pazzesche. Dici? Beh, ma ti ricordi quando da ragazzina ci mettevamo il cotone per farle un po' più... Mi ricordo sì, io lo faccio ancora. A me mi aumentano così soltanto quando sono incinta. Anche a me. Quanto mi piacerebbe a me averci un altro bambino, sai? Un batuffoletto da accarezzare, da coccolare, da viziare. Hai detto anche a me? No. Ma no, ma Carlo dice che non è il momento. Sai, dobbiamo pagare la macchina. Il mutuo. Figurati che quella casa sarà nostra soltanto fra 14 anni. Quindi quando siamo lì, lì, non c'è... Hai capito, lì lì? Eh? Non si distrae manco a morire. Ma io uno di questi giorni lo frego, sai? Gli do via libera. Semaforo verde e fra nove mesi, tacchete. Un bel bambino. Che dici, lo frego? Guarda che un quarto dell'umanità è nata così, eh? Che ti senti poco bene? No. C'è un calo di pressione. Ho messo troppa melissa nell'acqua. No, 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 che melissa. Senti, a proposito, una cosa, Monica. Secondo te, no? Diciamo, mettiamola così. La signora X avesse il sospetto di essere incinta, no? Pensi che l'idromassaggio sarebbe pericoloso? Hai il sospetto? Ma la sto parlando in generale io, eh? Ma è meraviglioso. Guarda, io ho sempre saputo che fra te Stefano non era finita. E io sono sicura che a riportarlo qui, più che l'amore per l'insegnamento, sei stata qui, quello è tornato per te. Guarda, credimi, è così. Sono convinta. Non sto parlando di me. Poi di Stefano, eh? Ancora di meno. Certo, certo. Sono stata io a presentarmi, me lo ricordo perfettamente. Ti ricordi quando mi hai detto, quando eravamo piccole, no? Vieni alla festa, portati un ragazzo. Non ce l'ho nessuno. Chiappato mio fratello, boom, l'ho buttato alla festa. Ecco là. Guarda, sono felice. Credimi, sono veramente contenta. Credi, rispondi alla domanda, eh? Cosa? L'idromassaggio nocivo? Ma per l'amore di Dio, ma no, figurati. Senti, Elena, diciamo così per dire, se questo sospetto della signora X dovesse diventare una certezza, me lo faresti sapere? Monica, guarda, Lisa, per l'amore di Dio, muta. Muta come un pesce. Tu rilassati, eh? Tranquilla. Mi rilasso. Mi rilasso. Dopo un'attenta riflessione di questi giorni, ho scovato un autore contemporaneo di Shakespeare. Vi ricordate quando abbiamo parlato del sogno di una notte di mezza estate, no? Io veramente non me lo ricordo. È un suo contemporaneo minore, un certo Kircher. Io non l'ho mai sentito nominare. È per questo che sei nella scuola. Benissimo. Lui ha scritto una comedia molto carina che è adatta per noi. e si intitola Il piccolo ladro. Mi piace il titolo? Sì! Sì, sì, è bellissimo. A me no. Vedrai, sarà bellissimo. Mi piace molto anche a me. Scusa, posso averne una copia? Vabbè, certo. Adesso che devo farle aiuto. Certo. Grazie. Dunque, allora, distribuzione dei ruoli. Giulia sarà la principessa, figlia del prezzo. È perfetta come principessa. L'ancella sarà Mirella, che si innamorerà invece di Sar Donald. Anch'io? Interpretato da Enriquezzo. Simone sarà invece il re. Questo re biondo e paciocchone. Paolino sarà la sua guardia del corpo. O tutti gli altri che invece non partecipano alla recita avranno ruoli importanti per quanto riguarda la realizzazione delle scenografie, dei costumi e tutto quello che riguarda la messa appunto della commedia. Il protagonista, Sir William, che sarà interpretato dal nostro Robertino. Che piccolo ladro. Sì. Ladro, ladro, ladro. Ladro, ladro, ladro. Buoni, buoni, buoni. Dici sempre di avere... Eh, c'è poco da prendere in giro. Il suo è il ruolo più bello. No, non mi va, non lo so fare. Invece sì che lo sai fare. Devi pensare che sarà un gioco, fare il ladro solo per gioco. Ma no, ma poi con tutte quelle battute difficili, ma che ci riesce? Eh, se ci sono delle battute difficili, le togliamo. Va bene? Adesso basta, andiamo a leggere i copioni. Cominciamo a leggere la commedia. Il piccolo ladro, pagina 1. Ciao. Giulia, aspetta qui che adesso arriva la mamma, eh? Sì, va bene, ciao. Robertino mi ha dato il suo copione. Dice che la commedia non la farà. Io ho cercato di convincerlo, ma... Vabbè, non ti preoccupare lo stesso. Ciao. Senti, Stefano, ti ho preparato qui la ricerca. Te la porto domani? Ah, sì, grazie. Ok, ciao. Ciao. Elisa, cosa c'è? Niente, via. Come niente? Stavi cadendo. Elisa, senti, tu lavori troppo, tu concedi troppo e invece ti devi riposare. Guarda, è stato soltanto un giramento di testa. Ma che giramento di testa? Sei bianca come uno straccio. Fatti fare una bella analisi, una bella cura, no? E infatti ho un appuntamento tra una settimana a Luca per un controllo. A Luca? E perché fino a Luca? Perché non voglio che qui si sappia che non mi sento bene, ecco. Giusto. Bene, così ti accompagno. Ecco, tessi fra quelli che non devono saperlo. Ma se lo so già. Vabbè, insomma, comunque io non ho bisogno della guardia del corpo. Proprio per nessuna ragione e neanche d'aiuto, chiaro? Elisa, ma perché sei così cocciuta, eh? Me lo spieghi. Non quanto te. Senti, guarda, lasciami andare a casa. Sto benissimo, dai, sto benissimo. Ciao, mamma. Ciao, amore. Chiamami, eh, se hai bisogno. Telefonami. Sì, sì. E' inutile, non so recitare. Non posso farla quella parte. E io sono venuto apposta per provare la parte con te. Ma vedi, adesso non possiamo. Mia sorella sta facendo lezione e... E papà non vuole che le rispondi. E no, e invece è finito. Ciao, ciao Cristina. Mercoledì, eh. Ciao. Ciao Robertino. Buongiorno. Buongiorno, signore. Io sono il maestro di scuola di Robertino, sì. Ma Robertino non suona il piano? Ci abbiamo provato con lui, ma non è portato. Si nascondeva sotto il divano per non fare lezione. Buongiorno. Buongiorno. Sotto il divano, eh. E ci credo. Io non ci credo che tu non sia portato. Invece è vero, non sono portato per fare nulla. Sì, fammi sentire qualcosa al piano, vai. Papà e mamma ci sono? Mamma no, non c'è papà che lavora. Se ci sente ci ammazza. Ah sì? Bene. Bene. Buongiorno. Bola bailare la mamma E' arrivato. Ma insomma, Roberto, quante volte devo dirti che il piano di Cristina è uno strumento delicato e... Era con lei, maestro, non sapevo. Come va? Bene, grazie. E' proprio lei che volevo, sa. E c'era bisogno di fare tutto questo baccano? Beh, vedi, a volte uno per attirare l'attenzione fa delle cose che non vorrebbe mai fare. Come suo figlio. Non riesco a seguirla. No, eh. Beh, se un giorno ho un attimo di tempo, venga da me. Così magari approfondiamo il discorso. Sì, certamente sono d'accordo, ma come vedi adesso ho da fare. E non avevo dubbi. Allora, arrivederla, maestro. Arrivederla. Mi hai fregato. Era mio padre che volevi. Sì, era tuo padre che volevo. Però anche tu mi hai fregato, sai? Lo sai perché ti ho dato quel ruolo nella commedia, no? Vedi, quello è soltanto una parte da recitare, un copione. Però ti insegnerà che nella vita, quando uno sbaglia, ne deve chiedere scusa. Insomma, deve pagare. Ma tu, tu come? Il tuo angelo custode. Oh, sì, era stufo di mangiare merendine, snack nei supermercati. Mi ha detto che fanno venire le carie ai denti. Io, mi dispiace, ma... Ma gli angeli custodi non vanno mai a dormire. Ha visto proprio tutto? No. No, no, no. A volte hanno gli occhi chiusi e sono occupati a fare un sacco di altre cose. Loro. Ma io c'era al supermercato. Io ho visto tutto. Robertino, non hai scampo. Senti, hai ancora 15 giorni di tempo per imparare tutta memoria. Ce la puoi fare, capisci? Ce la farai. Ce la farai. Senti, hai ancora 15 giorni di tempo per imparare tutta memoria. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cervice da capo, dai, forza, tu sei il re, io, bello, bello, pomposo, io, dai. Io, il re, lo condanno. Al taglio? Al taglio immediato del... Della, del... Cervino. Cervino, che cervino? Ma quale cervino? Dai, cervi... Di la testa, di la testa e buonanotte, dai. Stefano, senza... Io, il re lo condanno al taglio della testa. Della testa, benissimo. Adesso, attenzione. Robertino, va. Che fai? Non posso. Perché non puoi? Dai, domani ce la recita. Robertino, su, di la battuta. Come faccio? Insomma, com'è? Ma dilla con parole tue, devi dire, scusate, scusate, ho rubato. Ecco, scusate, ho rubato e... Com'è la battuta? Giovanna, per favore. Che pagina è? Eccola qua, pagina tre, questa. Tre a tre. Sì. Buonasera. Simone, dai. Ah, buonasera, principessa. Cos'è colpa della regina madre se sei in ritardo, eh? La carrozza ha forato, Sire. Ah, la carrozza ha forato, eh? Sì. Forza, dai. Vatti a preparare. Vatti a mettere il vestito. Veronica, per favore, dai una mano a Giulia. Non ce la farà. Non ce la farà. Proviamo, via. No, no, ce la farà, Robertino. Domani vedrai che Robertino... Ma che Robertino? Giovanna, come aiuto regista, proprio... Peccato, perché... E perché l'ora non la fai tu? Perché io non faccio d'aiuto a nessuno. Troppa grazia, maestà. Prego. Domani vieni? Faremo di tutto per esserci. Ma non ce la farà per domani, eh? A lui sì. Io non lo so. Mi trevano già le gambe. Non so se è per la paura della prima o... perché ci sei tu. Mio re, mia regina. Mie compagni. Perdonate questo sangue. Stefano, ma che bisogna ripeterlo un'altra volta? È già la decima. Saranno le otto. Ma sei sicuro? No, cioè no, aspettate un attimo. Non va bene queste lampade. Sembrano lampade da ristorante. Ma che c'è? Ci vogliono le lampadine tonde, quelle piccoline, da ribalta. Meno, meno... E poi là non... Non va bene quella... No, no, ho capito. Bisogna mettere qualcosa... in fondo alla scena, sì. Bye! Yeah! Uh... Grazie. 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 Zia, vuoi un caffè? No, grazie. Allora ti preparo un bel tè, va bene? No. Come no, scusa, sto facendo un tè all'inglese classico, buonissimo. No. Per favore, zia, vieni a prendere il tè, su. Ecco, guarda cosa ti ho preparato. Beh, ma che cos'è tutto questo apparecchiamento? Beh, zia, scusa. Sì. Ma dico, non ti sembra di esagerare un pochino, guarda che non andiamo mica alla scala. Cosa mai andiamo in un sottoscala? Che cosa c'entra? Una prima è sempre una prima per me, dovunque sia. Va bene, prendi il tè, vai. Non posso perché devo tirare su la veletta e mi casca tutto lo scignolo. Zia, prendi il tè. Non posso, mi si sciupa tutto il rosetto. Allora prendi il tovagliolo. Ma perché devo prendere il tovagliolo? Zia, prendi il tovagliolo, per favore. Ma se non prendi più. Prendilo. Oh, oh, carissima scogliattolina bionda. Ti scrivo per avvisarti che vado in letargo. Eh beh, capita. Ci riscriviamo tra sei mesi. Ah, però, un bacio pieno di miele, tuo orso Bruno. Mi ha scritto. Hai visto? Finalmente si è svegliato l'orso, eh? Sarebbe bene che anche tu andassi in letargo, sai zia? Beh, andiamo, eh. Senti, io non farò mai più teatro, eh. Perché? Perché è un'emozione troppo forte, stressante. Insomma, mi tremano le gambe, ho i sudori freddi. Ma non ti preoccupare. Il Kircher non ha mai sbagliato un colpo. Però, però che strano, eh. Il carattere della macchina da scrivere di orso Bruno è uguale al carattere della macchina da scrivere del Kircher. Guarda. Guarda. E guarda. Mi sa che questa volta il Kircher un colpo l'ha sbagliato. Eh sì. Hoci. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maestro, mi puoi aiutare a mettermi la corona? Sì, prendi la corona. Messo, messo. Che c'è? Robertino, non è ancora arrivato. Cosa? Sì, ormai non viene più. Ma come non viene più? Che è successo? Robertino, non viene più. Ma com'è? Stiamo per andare a scena e manca il protagonista. Solo, solo, solo. Stai calma. Calma, calma, eh. Non so farlo io? Ma che lo fai tu? Ma non lo puoi fare tu, Simone. Come si fa? Falli cantare. Canta. Falli cantare, Stefano. Sì, ma non le solite lagne, le solite cose. Una cosa allegra. Stefano, come stai a cantare? Sì, che integra, che integra, aspetti, dai. Vabbè? Sì, ballare? Sì, ballare. Sì, ballare, ballare cantare. Allora, prima di cominciare, qualche minuto di attesa, perché i nostri bambini sono un pochino agitati, si stanno preparando, nervosi, ripassano la parte e quindi così pensavamo di intrattenervi con un balletto. Allora, prego, maestro padre Andrea, la bamba. Vabbè? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una poca di grazia, fuori morti, e arriva, e arriva, e arriva, morti sere, morti sere, morti sere. Arrivo! Ma cosa succede? Chi è? Sono io. Signora, ma vi siete dimenticati che oggi c'è la recita? Dov'è Robertino? Lo stiamo aspettando tutti. Oggi? Ma Roberto è su, sta male. Sta male? Aspetta un po'. Ma, mi scusi, ma dove sta andando? È completamente rauco, senza voce. E così sei senza voce, vero? Peccato. No, peccato perché oggi per te è una giornata molto importante. Invece sei inchiodato lì, a letto, malato. Molto malato. Ma ricordati che un vero soldato more in piedi sul campo di battaglia. Ma io non sono un soldato! Fregato? Sì, mi ha fregato un'altra volta. Credi? Sì, è in tutto. Per ora. Adesso tocca a te, eh. E sbrigati che il teatro è pieno così! Sì! Ah, signora, senta, faccia venire anche Cristina, perché vede, noi nel nostro teatrino abbiamo un vecchio pianoforte, così ci sono in la colonna sonora. Ma come così sui due piedi? Guardi che non si è preparata, eh. No, eh. Ma non è un genio, scusi. Vedrà che non avrà problemi. Su, veloce. E anche il nostro Robertino lo avrà problemi, se la caverà benissimo. Vede, i suoi due figli hanno bisogno di fare qualche cosa insieme. Ah, una cosa. Faccia venire il suo marito, chiaro? Scommetti che papà non verrà mai. No, perché perderesti. Magari. Oh, sappiamo che è tardi. Cosa fanno? Canta. Ho già iniziato al spettacolo. No, 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 questo lo facciamo tutti i giorni, sì. Adesso è tanto che è stata tutta la volta la bamba, con Ottilia, la soviscita Lisa R4, con Margherita della quarta B. Sì, barai, 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 barai brava direttrice io, Serpone, duca di Danimarca confesso di aver rubato il forciere con i denari e l'arpa della principessa guardie, tagliatevi la c... il Cervino, no, 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 la Cervisce, si la Cervisce eh si, ma ti voglio aver rito a me fanno morire quando sbagliano, mi piace troppo testa, testa no, la testa padre, io imploro la vostra clemena vi prego, abbiate pietà di quest'uomo egli è innocente non è giusto condannarlo paura? si, lo so, un attore deve aver paura, normale solo che deve anche saperla vincere scommettiamo che non ce la faccio scommettiamo che invece ce la fai guarda, hai già perso una scommessa guarda un po' chi c'è in terza fila papà eh Serpone, sei davvero sicuro di essere il colpevole? no padre, no fermi, fermi vai perché? non ce la faccio vai, vai ho paura e vai mio re, mia principessa, miei compagni risparmiate questo sangue innocente sono io l'altro il... colpevole? colpevole, sì sì, sono io il colpevole e questa è la mia confessione e voglio farlo davanti a tutti sì, va rubato per dirlo ma so solo per giocare con voi per farvi capire che anch'io esisto e che anch'io so fare qualcosa e se lo fa è stato solo per riuscire a prendere un pezzetto del vostro cuore e tenerlo con me bravo sei tu ma so di aver sbagliato chiedo scusa a tutti a Simone per aver per avergli rubato i soldi dal dentino io sono cercato per la cupenda questa non è cupenda è vita vera allora non hai capito a niente chiedo scusa al maestro Bruno per avergli rubato l'autoradio ma la radio che mi hanno ridato non immaginavo ma di chi era? ah, quella? sì era la mia cosa? zia ma che fai? credevo che dormissi ma che dormire? è troppo commovente è bellissimo il teatro io andrò sempre a teatro guardi scusi scusi io non la voglio la sua radio io voglio la mia ma se la tenga perdonatemi non lo farò più mai più basta basta la nobiltà del tuo cuore ti ha salvato e io dichiaro che sia festa grande e che sia la pace in questa contrata lunga viva il re sei stato bravissimo mi hai fatto piangere grazie a tutti noi le ringraziamo molto l'importante è quello che è riuscito a fare con Roberto no, i meriti sono di Robertino e di a volte riuscire a guardarci dentro è lo sforzo più grande per un bambino come per ognuno di noi è un giorno che non dimenticherò Cristina, saluta il maestro arrivederci maestro ciao mi sarebbe tanto piaciuto avere un maestro come lei mamma posso andare a giocare con gli altri grazie grazie ancora di chi ha detto che era la commedia? è un lavoro collettivo sì l'abbiamo fatto tutti insieme ma in realtà è di Robertino arrivederci arrivederci di nuovo arrivederci maestro salve si ma arriva un attimo va bene e bravi miei attori e bravi miei attori e bravi miei attori bravi evviva oh che ci fai qua a te? oggi non devi andare a Luca a fare delle analisi sì ma te non vieni mica con me a Luca perché ho una memoria così di ferro? no io ho un carattere di ferro e qualunque cosa accade venga Luca con te no appunto andiamo quando hai avuto successo col teatro sei diventato sempre più insopportabile eh signor Kircher ah sì pensa lo sapeva anche la principessa Ellen che è l'unica donna che Kircher abbia amato fin dall'infanzia anche lei lo trattava malissimo faccia proprio bene guarda tu pensi? mh sai come è andata a finire la storia? no alla fine è stata lei che le ha chiesto di sposarla mh sei sicuro sia stata proprio lei? sì comunque io non lo farò mi dispiace ma il finale della commedia lo decido io prego signora mi seguo ma tu ti fidi di questo medico? beh mi seguo da dieci anni di me che ti seguo da venti non ti fidi Elisa tocca a te vieni venga anch'io no guarda hai fatto già troppo a venire fino qua beh dicevo così per dire già che ero qui mi facevo fare un controllo ne ho bisogno ne sono convinta psichiatrico però sei incinta Elisa come non non ho capito scusa cosa vuoi dire? che tra nove mesi nascerà tuo figlio beh beh è meraviglioso è meraviglioso è terribile perché vedi come tu ben sai io ho già una figlia è una figlia unica oddio è terribile essere figlia unica certo che avere anche un fratellastro non è che oddio un fratello normale non è che sia molto meglio ci sono tutte quelle complicazioni e gelosie rivalità competizioni beh certo meglio che niente io sono disperata Augusto io non so con più parlare di questa cosa almeno con il padre voglio dire il padre? come faccio a dirlo al padre? a meno che tu non abbia dei dubbi non posso avere dubbi su chi sia il padre no? e allora non vedo dove sia il problema è che non sono sicura che lui lo voglia fare il padre capisci? magari non si sente pronto vedi noi abbiamo avuto una storia molto tempo fa non molto tempo fa massimo un mese no molto tempo fa poi 10 anni fa è finita e così adesso ci siamo rivisti e è successo ma sei sicura che sia proprio finita? non è che si era solo interrotta? beh dopo 10 anni insomma io non voglio che lui si senta costretto capisci? sono disperata Augusto Elisa devi pensare a una cosa che stai andando incontro a una responsabilità che come donna sei perfettamente in grado di affrontare qualsiasi scelta farai adesso mi devi scusare ma ho un'urgenza un caso grave una signora che ha dei problemi di diabete ma guarda cacchio il mio è un problema serissimo serissimo qua fuori proprio che gli dico io? ma digli la verità ah digli che sta per diventare papà Augusto come amico sei molto disponibile devo dire ma come confidente proprio zero è zero zero Elisa mi fa mandare Elisa Elettio Elisa è un'altra ah grazie ciao ciao chiama quando vuoi in qualsiasi momento quello Augusto no? come mai è così premuroso? chiamami in qualsiasi momento non ci sono problemi cos'è? ti fa il filo? ma che filo ma Stefano guarda che sei fissato te sono fissato invece io ti devo dire una cosa aspetta qui dietro c'è una stradina di Luca che tu non conosci è una sorpresa e non mi direi di no guarda un po' ma dai ti piace? ma tutte te le trovo questa non la conoscevo carino eh? si senti insomma insomma me la vuoi far dire questa cosa è nostra mi è partita tre ore che mi interrompo non mi fai mai parlare allora dunque io in realtà è da un po' di tempo te la devo dire perché ho questa sensazione da almeno un mese però siccome la conferma l'ho avuta solo oggi allora appunto ti volevo dire che io io sono mi viene da piangere mi viene io coraggio Stefano io io sono io sono diabetica eccoci io sì ho il diabete ma non è possibile perché il diabete è una malattia dell'Italia in famiglia tua nessuno ha avuto il diabete ma perché mi devi conoscere così bene non lo so nemmeno io chi c'è avuto il diabete chi non ce l'ha avuto è una mia famiglia ora non lo devi sapere te lo devi sapere vabbè io ti sono certo ma cosa ne sei certo? scusa e beh io non posso essere la prima di avere il diabete in casa mia allora fammi leggere le analisi ma figurati se ti faccio leggere le analisi io me ne intendo fammi leggere le analisi una cincina orrenda e non ti piacerò più e poi non ci entreremo niente più tutti quanti in casa ma te esageri ma adesso figurati se diventerai così grande ma tu non puoi capire te senti non ti preoccupare guarda ci penserò ci penserò io farò tutto io io ti organizzo guarda le medicine la palestra il giochi no giochi non posso vabbè allora ti metto a dieta ti faccio fare una dieta praticamente non mangi niente ma se devo mangiare per due via Teresa senti ma tu sei sicura che sia un problema di diabete cioè che non sia un fatto nervoso invece eh sì no un po' di nervosismo cioè una conseguenza proprio tipica del diabete però insomma io sono felice sai perché in effetti io lo desideravo proprio tanto questo diabete ma che dici come si fa a desiderare se ti dici secondo me tu hai proprio bisogno di riposo sai è di riposo infatti anche l'altra volta avevo tanto bisogno di riposo mi addormentavo dappertutto dappertutto quale altra volta scusa? io ce l'avevo già avuto il diabete no nove anni fa poi me l'ha me l'ha passato si vede che ora me l'ha tornato è vero come le persone non si conoscono mai fino in fondo stanca ha camminato troppo come sei bello non è mai stata così bella o io non ho mai visto una persona che quando sta male sta così bene mi ha detto che è un'altra persona Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.